Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un tremendo lutto in queste ore ha colpito il mondo del cinema. Lei era una donna straordinaria, vincitrice di ben due Oscar. Pensate che dopo l'uscita del suo film che la rese famosa, la sua casa, divenne meta di ritrovo da parte delle persone che volevano scattare le fotografie. Infatti il suo volto ha dei tratti particolari e indimenticabili. Ma vediamo di chi si tratta. Ma prima, ecco il film che l'ha resa famosa, stiamo parlando di Coco, creato da Disney Pexar. La donna viveva a Santa Fe della Laguna, a Micoacan, vicino al lago turistico Pazcuaro, ed era molto conosciuta già prima che il cartone del 2017 fosse prodotto. La pellicola racconta la storia di Miguel, un piccolo messicano che sogna di diventare un musicista come il suo idolo, e che intraprende un fantastico viaggio nel mondo dei morti. Per conoscere la storia dei suoi antenati, in particolare del suo trisnonno, il padre di Mamacoco. Ed è proprio lei, ad aver ispirato la mitica Mamacoco, Maria Salud Ramire, una donna messicana, e ci ha lasciati all'età di ben 109 anni. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.